Come si è in crisi a causa della grave crisi economica che sta interessando la Valle d'Aosta? Ci sono dei dirigenti, delle compartecipate che guadagnano fino a 320.000 euro, ci sono dei pensionati che hanno delle pensioni d'oro da 10.000 euro al mese e ci sono invece delle famiglie che devono vivere con 600 euro al mese. Non è giusto, ci va una società più equa, più solidale. Tutti in Valle d'Aosta devono avere una vita dignitosa, che siano operai, artigiani, cassa integrati o pensionati. Perché, come dice il nostro slogan, una ragione davvero ricca quando è giusta.